La provincia di Macerata continua a provvedere delle strade statali che non sono più di pertinenza della provincia, sono della regione e la regione ha deciso di darle all'ANAS. Allora, nella convenzione, ho detto al Presidente della regione, scriviamo la data certa dalla quale la provincia di Macerata non ha più competenze sulle strade, sia per quanto riguarda la loro manutenzione, sia per quanto riguarda qualsiasi evento possa accadere. Abbiamo noi il dovere di tutelare le nostre comunità. Cara regione, nella convenzione bisogna stabilire il giorno dal quale saranno competenti l'ANAS, la regione stessa e non più le province. E fino a quella data chi dovrà fare, con quale risorse, chi dovrà garantire i servizi. Chiedo, penso, una cosa molto semplice e soprattutto una cosa giusta. Quindi si chiariscano questi aspetti e io firmo dopo un secondo. Un altro no in materia dei rifiuti, il no al Cosmari sui rifiuti provenienti dalla provincia d'Ancola. Pur ricordando perfettamente che a suo tempo, quando noi avevamo problemi della riscarica, abbiamo chiesto, tra virgolette, la solidarietà, la collaborazione alle altre province. Ma la collaborazione non può significare, diciamo, un aggravamento di una situazione che vede un disagio forte da parte di migliaia di cittadini. La regione che sembra magari invece frenare anche alcuni slanci che da macerata o input arrivano. Lei vede questo anche alla luce del dibattito sulla sanità, non solo che è emerso. Rischiamo di perdere, diciamo, di vista quello che sta succedendo. E cioè che la nostra sanità non vede un momento, parlo di quella maceratese, di grande slancio. C'è rischio che siano smantellati i servizi, la loro qualità, penso agli ospedali, ai primari e a tutto quello che abbiamo, avevamo e che rischiamo di non avere più. Allora, attenzione. Parliamo del futuro, parliamo di investimenti importanti, ma soprattutto dobbiamo prestare attenzione e la regione deve essere a fianco nostro, dei cittadini di questa provincia perché i servizi siano tutelati e siano mantenuti nella loro qualità.